Possiamo allargare i marciapiedi ma soprattutto miriamo a creare delle zone pedonali. Delle zone pedonali che possono essere, anzi all'inizio saranno certamente sperimentali e le individueremo in tutti i municipi con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei commercianti e dei residenti. Abbiamo sperimentato e abbiamo visto che quando si creano delle aree destinate a pedoni questi si riversano con molto piacere in queste aree, in queste zone perché di fatto si riappropriano di una parte di città e quindi noi da qui vogliamo ripartire. Avevamo tentato già durante la precedente consigliatura, quella in cui eravamo all'opposizione di fare una proposta su via urbana e devo dire che tutti i commercianti e i residenti erano d'accordo nel rendere quel tratto integralmente pedonale. È chiaro che la pedonalizzazione di un'area benché sperimentale debba essere accompagnata da uno studio accurato della mobilità circostante. Quindi il provvedimento deve essere preso in modo conforme e in modo tale da non paralizzare la città. Però tutto questo è possibile, si può fare, ce lo dimostra anche New York che è una città sicuramente molto più simile a Roma di quanto non lo sia Amsterdam perché spesso si pensa ad Amsterdam come paradigma della città ideale ma possiamo dire che è anni luce lontana da Roma. Mentre a New York, proprio nella precedente amministrazione, il commissario ai trasporti ha creato delle zone pedonali sperimentali.